Buongiorno a tutti gli spettatori di Rete 7, vediamo insieme le notizie di oggi, sabato 18 maggio, e qualche informazione per domani. Intanto, sino a domani, il Fringe Festival in via Cernaia, Mercatino, con ritrovo alle 8 stamane, al 19esimo trofeo Auto Ingross ciclistica, da Corso Rosselli 181, in Piazza Castello, la giornata mondiale della Croce Rossa. Sino a domani, campionato del mondo di Street Magic 2019, spettacoli gratuiti, in giro per la città. In Piazza Darmi, The Color Run, partenza alle 16.30, dalle 16 alle 22, presso la parrocchia Nostra Signora della Speranza, via Châtillon, festa di aggregazione. Da oggi a lunedì, le linee 45 e 45 barate 99 subiscono deviazioni di percorso in Sant'Ena. Vediamo le notizie di domani, le più importanti. Intanto, le feste di via in Corso Sebastopoli, Corso Vercelli e via Nicola Fabrizi, e poi l'incontro di calcio Juventus-Atalanta, l'Allianz Stadium. È tutto, buon fine settimana, buon viaggio, a lunedì!